Prima di iniziare direi di ringraziare Vanessa Pantano che sta commentando veramente tantissimo Andrò immediatamente a inviargli la richiesta ma andiamo subito ad emettere il regalo di oggi Allora amici che skin vuoi regalare? Dai sentiamo eh, lo vedo già, lo vedo già scatenata Vai clicca subito, andiamo a regalare all'ultimo che si è iscritto, ha messo like, ha condiviso E se hai visto il video dall'inizio alla fine, che è proprio, qual ho esaltato Vai vai proprio lui, vai clicca, acquista un dono e... Dono inviato, il primo regalo è andato, mi raccomando guardate il video dall'inizio alla fine Se anche voi volete ricevere dei regali su Fortnite Cadi ho trovato il metodo per ricevere il piccone gratis gratuitamente in l'anteprima mondiale Allora, il piccone innanzitutto numero uno, a quale piccone ti intendi dei tanti che ci vengono su Fortnite? Cadi quel piccone gratis che l'Epic ci regalerà in questi giorni per scusarsi di quei problemi server che tu conosci bene Ah ho capito, quello praticamente che abbiamo mostrato nel video di ieri che vi è piaciuto in tantissima Allora Samu, spieghiamo a tutti quanti i nostri fan come possono riscattare questo piccone in anteprima raga E non stiamo scherzando, non è uno di quei video fake dove non lo spieghiamo Innanzitutto spiegami cosa ci fai su Nexus Shop che non c'entra completamente nulla col piccone in anteprima Cadi, grazie all'account sviluppatore che vende Nexus Shop come puoi vedere qua a soli 2 euro Ok Sono riuscito ad ottenere questo piccone in anteprima mondiale Ok, io l'account sviluppatore già lo conosco, aprilo subito, veloce, 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 vai acquista e apri quest'account Allora Cadi, per avviare l'account sviluppatore basterà aprire questa cartella e andare su Run Ok, questo me lo ricordavo come nel vecchio account sviluppatore, perfetto Poi Cadi dovrai avviare Neonite Launcher Ok Dopodiché inserire il tuo username e cliccare su Launcher Lancia, lancia subito, vogliamo vedere il piccone in anteprima Eccoci qua all'interno dell'account che conosciamo benissimo Allora Samu, quali sono tutte le opzioni diciamo per ricevere questo piccone E innanzitutto lo troviamo già nell'armadietto La prima cosa che dovremmo sussurrare a questo Neonite Bot che abbiamo tra gli amici Sì E inviare questo comando qua Cadi Ok, che è praticamente punto esclamativo Gift Crescent Shroom Che sarebbe praticamente il nome del piccone in inglese Esatto, vado in via Ok, vai in via Ah, ecco come ho fatto ieri per avere questa schermata Che figata Esattamente Quindi aspetta, 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 prima di aprirla È come se fosse il regalo che faccio tutti i giorni io ai fan, giusto? Sì, però diciamo che è un po' particolare questo regalo Perché questo qua ci può regalare cose in anteprima E anche perché c'è scritto da Neonite Bot Va bene, fai apri, clicca su apri, vediamo Ed eccolo qua nella sua bellezza Mazza lunga con funghi Letta la mette su Tomasamu Fammi vedere un attimo nell'armadietto Dopodiché prova l'emote nella lobby Quell'emote che tipo allunga e fa vedere il piccone Vai subito, subito, subito Basterà cercare mazza lunga Cadi Ok, ah, eccolo qua E infatti c'è scritto che fa parte del set Re dei Funghi Del capitolo 3 stagione 1 Allora Samu, vai Mettilo con la skin che si abbina Quindi la skin Ah, la skin Ma la skin in questa qua è uscita? No, è uscita insieme a questo piccone Fa parte della skin Quindi aspetta un attimo Abbiamo anche la skin in anteprima Sì, sì Che figata Allora Samu Trova l'emote quella del piccone Vai in lobby E fai entrare tutti quanti i bot Ora ne vedremo delle belle Cadi, questo è il comando per far entrare tutti i bot in lobby Ok, vai Quale sarebbe? Punto esclamativo Max bot Ok, invia Mamma mia Che figata Ma possono mettere tutti quanti la stessa skin, vero? Esattamente Allora vai, vai Fai mettere la skin di Kung Fung Si dovrebbe chiamare E facciamo mettere l'emote Del piccone, ragazzi Stiamo per vedere qualcosa Guarda che figata No ragazzi, sono scioccato Vai, vai Parti, parti con l'emote Parti con l'emote Oh mio Oh ragazzi 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 Che figata Sono letteralmente senza parole Allora Date subito Voi che siete in chiamata qua su Discord Un voto Da 1 a 10 A questo set Che è fantastico Io che ti darei un bel 9 Invece darei un bel 10 Perché secondo me è veramente fighissimo Esatto Scrivetemi voi Il voto che date da 1 a 10 Ma fermi subito Perché non termina quel video Andiamo in game Vi do a mostrare altre cose E devo dire la parola segreta Di questo video Quindi guardatelo tutto quanto Let's go Ragazzi Guarda davanti a me Guarda davanti a me Oh Prima ci ha chiamato Non ci siamo riuscito Ragazzi Pusciamo subito Pusciamo subito Se siete arrivati fino a questa parte del video Commentate tutti quanti Con punto esclamativo Assurdo Perché ragazzi In questo modo Riuscirò a capire Chi è un real fan Ragazzi vi prego Pusciamo sto qua Ha piazzato una tenda Ha piazzato una tenda Veloci Oh Oh ragazzi è scioltissimo È scioltissimo Ragazzi Vieni veloci Ragazzi ragazzi Guarda davanti a noi Guarda davanti a noi C'è un dirmi intero Oddio Oddio 33 33 1 Ragazzi Pusciamo subito Pusciamo subito Morto uno Morto uno Aspetta Aspetta C'è l'altro sopra C'è l'altro sopra Ecco lo vedo Butta le bombe Butta le bombe Attenzione Oddio Teus Prova la cacchirata Prova la cacchirata Prova la cacchirata Aiuto Oddio Abbiamo cacchirata a me Madonna ragazzi Ho troppo sca Ok niente Niente Hanno pure il mato Ragazzi aiuto 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 Non ho più vita Non ho più vita Morto uno Non ho più vita Ci sta uno qua sotto Ok E' eliminato un altro Mamma mia ragazzi Tutto il team Fatto Let's go Questi sono i bei game No ragazzi Il team Oddio Ce n'è un altro qua Lo pusho io Lo pusho io Ragazzi Lo pusho io Vai 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 Ragazzi Vai vai Let's go È nostro È nostro Non sono riuscito a bloccarlo Oddio Dove è andato Eccolo 110 Vai Ha tirato uno Ragazzi Ha tirato uno E qua Lo finisco 3 2 1 Mamma mia Let's go Andata Prendo la mitaglietta oro Ok Ragazzi Stiamo facendo il devasto Stiamo facendo il devasto Nel mentre possiamo vedere un lupo Che sta rincorrendo un cinghiale Non so Ragazzi Mamma mia Comunque Sti animali di porta Oh Sti animali di porta Le fanno matta Ragazzi Io sono senza parole Io sono senza parole Questi animali li odio Prova a cerchirare lì L'acqua sotto Fermi tutti Vediamo un po' Vediamo un po' Speno Hanno Oddio Ragazzi Solo uno Solo uno Oh Dammi Oh Ci sparano Vai però Dammi Che devo fare Posso aprirlo Fermo Che devo fare fra Devo prenderli E prendili veloci Ok Ok Vai pushiamo bro 3 2 1 Let's go ragazzi Si pusha Si pusha Allora spam nei commenti di forza Per favore Per favore raga Oddio cedete qua sotto Raga C'è un botto di gente qua sotto Raga per favore venite da me Oddio sei tu Ragazzi 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 stanno scappando Oh Dove te me raga Dove te me Oddio 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 Lo pusho Lo pusho Eccolo qua E qua davanti a me E qua davanti a me bro E dietro di te Ciao Oddio Oddio Ragazzi Devo scappare Niente Bro devo scappare Oddio Ok Un atterrato Attento Sono morto Sono morto Sono morto ragazzi Sono morto Oddio Oddio che trick Oddio che trick Oddio che trick Oddio che trick Altra gente Eccoli Bro Bro Ha uno di vita Bombe 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 Bro uno di vita Uno di vita Questo qua ragazzi È uno di vita Aspetta Samu che stai facendo Samu Sto prendendo la loot Ragazzi c'è uno Fra c'è uno qua sopra C'è uno di vita Giuro eh Eccolo 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 Oddio oddio Mi stanno sparando Da tutte le parti Dove è andato Dove è andato Dove è andato Scappando 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 Bro bro Dobbiamo scappare pure noi Scappiamo scappiamo Via 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 Morto 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 Madonna ragazzi Non se ne può più C'è gente sopra la collinetta Eccoli Eccoli No l'ho schivato Non vorrei dire Ma qua sotto Ce n'è un altro Eccolo Aiuto Un atterrato Un atterrato ragazzi Un atterrato Eccolo No no raga Mi hanno terrato Raga veloci Veloci No Morto uno Morto uno No no ragazzi Un hit Un hit No bro Siamo morti Siamo morti Questo game Questo game è perso Zeus 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 Raga è inutile Siamo tutti quanti morti Guarda Sam Guarda 3 2 1 Io l'avevo detto Raga Io l'avevo detto Insomma ragazzi Che dire like Iscrizione e commento Condivisione Noi ci becchiamo Ogni sera 19.15 con un nuovo video E alle 21.15 Live Ci becchiamo domani Bella boys